Con un colpo solo lo spendo. Tu che cazzo riprendi, eh? Ma lo sapete quanti cinquantenni e sessantenni mi trovo io? Ah, avvocato. Ma che mi metta, dimmelo. Guarda che giocare online, matematica, è statistica pura. Cazzo. Viviamo in un mondo feroce, andiamo alla velocità della luce. Possiamo fare tutto. Certo, certo. Abbiamo tutti paura. Un cast d'eccezione in un film che nasconde tutte le insidie del web. Adesso che tu non ci dirai. Prego, non mettere in mezzo la mia famiglia. Non puoi mettere in mezzo la mia famiglia, hai capito? Ciao, sono Sandro e sono una checca. Avanti, dillo. Siamo Sandro e sono una checca. Qua dentro c'è il tuo filmato. È una trappola. Don Luciano, fuori c'è uno scritto bruttissimo. Quale scritta? Per quanto mi riguarda potrebbe essere davvero un pedofilo. L'unica risposta che possiamo dare a questa gente è che non dobbiamo piegarci, capito? Non dobbiamo avere paura. Sai che io posso farti del male se voglio? Un'ultima possibilità. Lo sbanco quel sito di merda. Mamma. Ricco di colpi di scena, ti trascina in un mondo virtuale, dove ognuno di noi è una vittima inconsapevole. È tutto lì. È tutto filmato lì dentro. Bacia all'asfalto. Bacia all'asfalto, Pinocchio. Cosa sta succedendo?